L'America piange i morti a causa del Covid-19, cerca un colpevole al di fuori dei propri confini. Sono 71.000 i morti e 1.200.000 i contagiati negli Stati Uniti, quasi un terzo dei dati mondiali. 257.000 morti e 3.700.000 contagiati, stando ai dati della Johns Hopkins University. Nonostante l'emergenza, il presidente americano Donald Trump, ieri in una fabbrica a Phoenix, ha dichiarato che bisogna riaprire presto il paese anche se il bilancio delle vittime sarà più pesante. La Casa Bianca è tornata a puntare il dito contro la Cina, sostenendo che il nuovo coronavirus sia sfuggito da un laboratorio di Wuhan, epicentro della pandemia. La Cina ha risposto, se ha enormi prove, ce le mostri. Proprio a Wuhan e nella provincia di Hubei oggi hanno riaperto anche le scuole superiori. La Cina ieri ha registrato due contagi di persone provenienti dall'estero. Nel paese il bilancio è di quasi 83.000 contagiati e 4.600 morti. In America Latina sono 280.000 i contagiati e 15.000 i decessi, di cui la metà solo in Brasile, il quale rimane il paese con più criticità. Medici Senza Frontiere ha chiesto agli Stati Uniti e al Messico di bloccare l'espulsione di migranti e richiedenti asilo sudamericani perché si corre il rischio di aggravare la crisi sanitaria nei paesi di origine. In Europa è la Gran Bretagna il paese con più decessi, 29.500. Il premier Boris Johnson sta pensando ad una nuova fase dopo il 7 maggio, ma adesso è preoccupato di innescare un secondo picco mortale di casi di Covid-19.